E ora un articolo a Sonia Lorenzini sempre quindi del trono classico di uomini e donne di Claudio D'Angelo. Insomma la corteggiatrice che più di ogni altra, si sta mettendo in mostra nel trono classico. Diciamo fra alti e bassi. Fra dubbi e sospetti. Come vedremo in questa settimana che sta entrando. Ne vedremo veramente delle belle ve le garantisco. Insomma salterà fuori tutta una storia in base, alla quale lui si sentirebbe ancora con la ex. E insomma diciamo c'è la tutta, vedremo che il trono del bel Claudio vacillerà, e non poco. E il tutto partirà proprio dalle rivelazioni di Sonia Lorenzini. Insomma è un piccolo anticipo di quello che vedremo non aggiungo altro per non rovinarvi la puntata. Ma vi consiglio di guardarla. Scrive Sonia Lorenzini su Instagram su Claudio D'Angelo. Una Sonia Lorenzini che comunque si è già baciata diverse volte con Claudio. La stessa corteggiatrice manda un messaggio chiarissimo al suo tronista dalla pagina Instagram dove dice Non sono impegnata. Sono impegnativa. Dite che Claudio D'Angelo se ne sia già accorto.